Allora ragazzi vittoria vittoria per 3 a 0 facciamo un bel clean sheet finalmente non subiamo gol parliamo italiano finalmente non subiamo gol e non subiamo neanche un tiro in porta quindi bravissimi ragazzi l'Inter che vince per 3 a 0 con il gol bellissimo di Lautaro Martinez con una combinazione con Lukaku quindi Lula is back grandi ragazzi poi il secondo gol di Akancianoglu e per chiudere il terzo gol anche del Tuku Correa che a me non mi dispiace sinceramente comunque parlando un attimo della partita anzi prima parliamo un secondo del risultato risultato che ci sta risultato che è super meritato anzi sicuramente poteva finire anche 4 o 5 a 0 perché Lukaku ha preso una traversa ci sono stati diversi tiri due tiri o tre tiri adesso mi ricordo di Lautaro Martinez altre diverse occasioni sicuramente poteva finire tranquillamente anche 4 o 5 a 0 lo Spezia praticamente non ha fatto niente ma veramente nel senso della parola perché 0 tiri in porta non è mai venuto in avanti boh Andanovic non ha fatto proprio niente Andanovic ha giocato 2-3 palloni con i piedi ma lo Spezia proprio non ha giocato la partita è stato un dominio assoluto quindi il risultato è super super meritato parlare un secondo della partita che non è che c'è tanto da parlare quando vinci 3 a 0 cioè che vuoi dire domini la squadra avversaria fa 0 tiri in porta c'è poco da dire se non che siamo stati perfetti per carità lo Spezia assolutamente però no vincere convincere fa sempre bene anzi addirittura a un certo punto quando abbiamo fatto il 2 a 0 nel secondo tempo mi sembra che l'abbiamo fatto al sessantesimo adesso è venuto precisamente non me lo ricordo forse anche un pochino prima poi da lì fino al 3 a 0 di Correa veramente è stata una partita noiosissima perché non c'è stato più niente cioè l'Inter gestiva il risultato si giocava nel pallone di lì era quasi diventata una partita pallosa proprio cioè stavi di lì e dici vabbè però dai fate qualcosa perché so di qui ci addormentiamo ecco era diventata una partita così perché lo Spezia a 0 noi stavamo praticamente gestendo che per carità ci sta tutto e non è che possiamo andare all'arrembaggio e cercare di fare 4-5 gol va benissimo per farvi capire com'è andata la partita comunque partiamo dal primo tempo primo tempo dove all'inizio fino al primo quarto d'ora era un'Inter un po' schiacciata un po' che non riusciva ad esprimere il proprio gioco lo Spezia si difendeva benissimo anche qualche parone dato a Lukaku qualche stop sbagliato da Romelu qualche anche stop sbagliato da Lautaro diciamo che non era proprio un inizio proprio fantastico poi invece è stato un bellissimo lancio non mi ricordo di Barella Barella che passa alta per Lukaku Lukaku fa una sponda di testa Lautaro fuori sulla lunetta dell'area piccola sinistro di controbalzo palla rasotera fatto un gol è andato a vedere bellissimo nell'angolino basso 1-0 per noi quindi questa popolazione della Lula poi da lì ci siamo sbloccati abbiamo cominciato a giocare bene a creare tante occasioni anche diversi fraseggi fra Lukaku e Lautaro poi c'è stato la traversa di Romelu con un cross bellissimo di bastoni queste azioni le vedevamo anche con Conte se ve lo ricordate anzi ci tengo a dire che quest'anno sembra finalmente di rivedere il gioco che diciamo piace a me cioè nel senso il gioco dell'anno scorso purtroppo per fortuna per l'anno scorso giocavamo bene però era un gioco impostato sulle fasce cioè cercavi Perisic e Dunfris più che altro Perisic sperava che ti saltasse l'uomo ecco questo era il gioco dell'anno scorso invece quest'anno con Lukaku ti permette anche di fare un gioco in profondità giocare con le due punte quindi per questo Lukaku è stato fondamentale riprenderlo per non giocare sempre sulle fasce perché cioè il gioco secondo me va impostato così con le punte che Lautaro e Lukaku insieme sono perfetti Lukaku attacca sempre la profondità quindi per questo si trovano bene il gioco che piace a me il gioco anche che vedevamo con Antonio Conte comunque cross di bastone traversa di Lukaku ho sperato che segnasse perché sbloccarsi anche a San Siro sarebbe stato bellissimo ma veramente tante partite comunque Lukaku prima partita gol seconda partita una traversa e un assist vabbè scarso sì ancora ci sono tanti interisti che lo chiamano scarso muflone scarso vabbè benissimo io me lo tengo sinceramente poi tanto saliranno tutti sul carro e preparatevi che saliranno tutti sul carro poi vabbè abbiamo avuto anche altre diverse occasioni non ha fatto particolari parate Drongoski se non una bella su Dunfris dove ha coperto tutta la porta e qui poi finisce il primo tempo il secondo tempo ricomincia su una falsa riga del primo dove noi attacchiamo abbastanza poi il pallone arriva praticamente su un'azione lunga adesso non mi ricordo precisamente la dinamica comunque Lukaku cerca di saltare l'uomo fa un 1-2 con scrignare il pallone fa uno giocatore dello spezia la rimette fuori di lì la pallone arriva per Cialanoglu che con un raso terra fa il 2-0 e poi da di lì come vi ho detto fino al gol di Correa è stata una partita alla Gnusa dove non c'è stato niente praticamente poi dopo un bel lancio non mi ricordo forse di Dunfris per Dzeko Dzeko si trova davanti il portiere scarta il portiere però si defila un po' sulla sinistra a quel punto i giocatori dello spezia del portiere si mettono davanti non può che passarla Correa che è da sole Correa la mette in porta quasi a porta libera quindi bravissimo anche il Tupo che ha fatto anche una mezza finta bravo Correa è 3-0 e la partita finisce così considerazioni finali come vi ho detto all'inizio vittoria meritata vittoria che serve sia per la squadra più che altro era importante non subire gol e questa cosa mi ha fatto veramente piacere quindi bravi ragazzi adesso testa alla prossima dove andiamo a Roma con la Lazio e lì sarà veramente il primo vero test cioè nel senso non è che queste prime due partite di campionato erano semplici perché nessuna partita è semplice abbiamo visto a Lecce abbiamo vinto all'ultimo secondo no? però se tu hai affrontato comunque il Lecce che è una squadra che lotta per non retrocedere hai affrontato lo Spezia che è sempre una squadra che lotta per non retrocedere la Lazio è una squadra che lotta per un posto in Europa che sia Champions o che sia Europa League o Conference comunque lotta per un posto in Europa quindi sarà il primo vero test anche perché noi quando andiamo a giocare a Roma con la Lazio a parte la riprende Vessino ce l'hanno messa sempre in quel posto quindi io ho seriamente paura per sabato credo che giochiamo un'altra volta di sabato mi sembra di sì, tre partite di fila di sabato mi sembra, o venerdì adesso mi sembra sabato vabbè, comunque giochiamo con la Lazio, questo è sicuro e di lì sarà una partita secondo me ostica, difficile sarà... la Lazio, oggi ho visto la partita col Torino non è che mi abbia impressionato così tanto la Lazio però secondo me sarà una partita tosta veramente molto difficile ora vediamo cosa faranno domani le altre gioca il Milan che comunque va a Bergamo e per il Milan è un test, è un primo vero test perché giochi contro l'Atalanta che è sempre una squadra difficile da affrontare la Juventus va a Genova con la Samp la Roma alla Cremonese mi sembra lunedì sera quindi anche per la Roma un impegno abbastanza semplice e poi le altre non mi ricordo di averle dette tutte quelle che affrontiamo credo quest'anno per lo scudetto cioè io vedo favorite o favorite, non lo so vedo il Milan con la Juve le più favorite poi vabbè con noi insieme e poi c'è la Roma che secondo me può dare fastidio può dare fastidio vabbè, io comunque vi saluto 8 minuti di video ho cercato più o meno di spiegarvi la partita come l'ho vista io e lasciate un mi piace un commento iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto sempre forza Inter e come ho detto prima ci vediamo per il post partita di Lazio-Inter sperando ovviamente sempre nei tre punti e anche nel golletto di Romelu perché ragazzi per me è diventata una sfida contro i Juventini e i Milanisti in generale tutti i tifosi d'Italia che ci stanno criticando Lukaku eccetera eccetera e gli interisti perché c'è qualche interista che non gli sta bene Lukaku veramente questo Cristiano in due partite ha fatto un gol e un assist e una traversa ha preso che la traversa non si conta però un gol e un assist e gioca bene è pesante ragazzi pesa 100 kg ci vuole per entrare in forma e non sono 100 kg di grasso non sono 100 kg di muscoli quindi ci vuole per entrare in forma vi ricordate in quando abbiamo preso le prime partite era lento, goffo ci vuole per entrare in forma dopo che questo viene in forma è un cararmato cararmato e non ascoltate Cassano che diceva che no dice che Barella è scarso per favore lasciamo stare ah tra l'altro non ci ho fatto un video ma Mila Skrini al prossimo anno io spero di vederlo capitano dell'Inter e questo ci tengo a dirlo nulla contro Andan anzi per carità lui è il nostro capitano grande Andanovic però ho un sogno di vedere Skrini al con la fascia di capitano dell'Inter cioè Skrini al capitano e contratto a vita punto non dico altro perché già sapete tutto vi saluto Semi Forza Inter amola spero di aver detto tutto in questi 10 minuti di video ci vorrebbero 20 minuti di video per raccontare tutta una bella live ma vabbè Semi Forza Inter amola grazie a tutti